Buonasera a tutti, Arduino Schenato insieme a IG per parlarvi del doppio minimo IR close che è uno dei miei segnali di trading. Prima di partire con i vari esempi pratici e la spiegazione del segnale, volevo andare a mostrarvi dove, vedete sul sito di IG, potete trovare poi gli webinar sia miei di Arduino Schenato sia del mio collega Bruno Moltrasio che è l'altro trader che fa e mostra da tantissimi anni il suo operato con IG, anche la mia parte didattica trading con Arduino Schenato, vedete che qui potete trovare tutta una parte riservata a tutte le mie strategie di trading, quindi anche quello che andiamo a vedere oggi, per chi non c'è o per chi deve andare via prima o comunque vuole rivedere questa puntata, lo va tranquillamente a ritrovare su didattica Arduino Schenato e da qui, vedete, qui ci sono tutte brevi lezioni di trading molto interessanti, anche proprio trading operativo live, psicologia, money management, sono comunque video che vengono aggiornati mensilmente e quindi bellissima questa sezione che IG fa a disposizione dei propri clienti e di tutti i trader poi, non solo i propri clienti perché questo è accesso a chiunque, quindi poi si può andare su guarda webinar on demand e da qui vedete che troviamo tutta la sezione di webinar, cioè quelli che ovviamente vengono fatti circa in questo orario ogni mese, intorno a metà mese come oggi e qui ne avete già un bel po', non abbiamo iniziato da molto ma ogni mese, ogni mese, ogni mese ovviamente si è creato già una bella struttura didattica di tutta la price action eccetera eccetera, faremo un sacco di cose, trading live, il prossimo appuntamento faremo trading live, quindi andremo a vedere insomma come si può andare a far trading anche sui grafici a 4 ore e a 1 ora, vedete qui come l'ultima volta abbiamo parlato del doppio massimo lower close, oggi parleremo del doppio minimo higher close, quindi avremo praticamente questi due segnali, uno ovviamente è il doppio massimo che abbiamo visto l'altra volta è per lo short, il doppio minimo ovviamente è per il long, quindi bellissimo insomma questo segnale perché si può utilizzare in entrambe le direzioni del mercato, mi chiede Fabrizio dove si possono vedere gli webinar base per imparare la piattaforma? Sicuramente attraverso il sito di IG ma se vai su Youtube e cerchi il canale di IG trovi sicuramente dei video che ti insegnano ad usare la piattaforma, altrimenti ti invito a contattare direttamente IG, per esempio adesso qui con me c'è Claudio, puoi chiedere di lui e lui ti darà sicuramente le giuste informazioni per poter andare a imparare un po' meglio la piattaforma di IG, poi dopo la piattaforma di IG che è la IG Trade si avvale di varie piattaforme grafiche tra cui la ProRealTime che io e quella che ho scelto per fare le mie analisi, questa è una piattaforma indipendente e quindi so che anche qui ci sono tutti i vari, da qui mi sembra si possa andare a vedere tutta la parte dedicata anche a come si fa a utilizzare questa piattaforma, anche se io reputo sempre molto interessante che cosa andare a, scusate la parola ma smanettarci sulla piattaforma, cioè andare a giocherellarci su perché è l'unico modo secondo me valido per poter imparare ad usare una piattaforma, quindi un po' smanettarci, IG vi consente un po' di settimane di demo appunto per capire come si usa la piattaforma, ecco sono settimane che servono proprio per imparare a capire come si segnano delle linee, come si può fare un layout, crearsi le proprie liste, crearsi le proprie opzioni per avere il grafico al meglio, quindi sicuramente può essere questo. Ci sono adesso altre domande riguardanti proprio la struttura di trading di IG, cioè come ho per IG però non sono io che devo rispondere, quindi vi dico di andare a parlare direttamente con le persone appunto di IG, quindi per esempio Claudio eccetera eccetera, che posso sicuramente darvi le migliori risposte. Io invece sono qui perché sono un trader privato che insieme a IG ha installato un ottimo rapporto tra cui appunto tutta questa parte didattica per voi e per tutti quelli che la vogliono seguire. Oggi come dicevamo parliamo del doppio minimo higher close, è un segnale di trading di price action molto molto tradizionale, molto interessante che si può utilizzare sicuramente in tutti gli strumenti, quindi io prediligo forex e indici perché sono i due mercati secondo me dove un trader non può non operare visto che sono bassissimi costi di commissione e mercati che si muovono molto bene, quindi a livello tecnico si possono creare delle ottime opportunità di trading sulle quali guadagnare senza rischiare troppo, eccessivamente e a questo punto ovviamente abbiamo appunto questo segnale che è il doppio minimo higher close che va a lavorare esclusivamente su operazioni a rialzo, cioè su acquisti dello strumento appunto che si vuole andare su cui si vuole andare a operare. Detto questo, che tipo di segnale ha? Non so se vi ricordate il doppio massimo lower close, però è il contrario del doppio massimo lower close, quindi il doppio minimo higher close è un segnale che è formato da due candele, due barre, due candele, io preferisco le candele alle barre e vi anche do un altro input, quando andate nella piattaforma andate a mettere nelle proprietà del grafico ma del prezzo, potete andare a mettere, proprio per leggere meglio questo segnale, togliere il contorno del display, quindi togliete il contorno dal prezzo così vedete esattamente il colore della candela che vi fa entrare o non uscire dal mercato, è importante perché vi può essere utile questo, un po' come lavorare con le barre, con il grafico a barre. Vedete io sono un cultore, mi piace molto il forex, sono un operatore che lavora molto sul mercato del forex, quindi ovviamente per me è sicuramente uno dei mercati migliori e vi dico di cercare di avere una buona watch list di riferimento con svariate copie di valute, tipo quella che ho io qui, perché vi può permettere di fare svariati trade e quindi dalla vostra di avere una certa diversificazione di portafoglio e di rischio. Da quell'altra parte poi ovviamente posso mettere gli indici, gli indici maggiori, qui non ho solo i maggiori, a me piace anche qualcosa di diverso, tipo lì vedete l'indice cinese, ho persino Singapore, il blue chips, ho delle cose interessanti, sono mercati sempre molto liquidi che comunque hanno un'ottima, lavorano molto bene con la price action tradizionale, quindi per esempio col segnale che andiamo a vedere oggi, cioè il doppio minimo higher. Allora andiamo a vedere per esempio il doppio minimo higher, prendiamo per esempio, non so cosa dite, prendiamo un indice e vi vado a far vedere quale potrebbe essere se lo troviamo un doppio minimo, eccolo qua. Allora, intanto abbiamo detto che è un segnale assolutamente da prendere long ed è formato da due candele, quindi mai una candela sola ma da due candele esattamente, e queste due candele sono di colore differente, come questo qui, eccolo qua, quindi una candela è di colore rosso, una candela è di colore verde, la caratteristica seconda è che la candela verde è un engulfing della rossa, quindi ha il minimo e il massimo che inglobano totalmente il minimo, scusate, il massimo e il minimo della candela rossa, e altra cosa, la chiusura della candela verde, quindi il close, è superiore al massimo della candela rossa. Questo ovviamente fa sì che questa cosa che vediamo qui, questo pattern grafico di price action, dal sottoscritto viene chiamato doppio minimo higher close, chiusura più alta o higher high, io lo chiamo anche higher close o higher high, non cambia niente, quindi vuol dire che ha fatto un minimo leggermente più basso o uguale al precedente, quindi se il minimo della candela verde è superiore al minimo della candela rossa non si tratterà di doppio minimo higher, ma non sarà sicuramente questo pattern, quindi al minimo che ha fatto una rottura falsa o comunque ha testato i minimi della candela rossa, cioè della giornata precedente, e la chiusura è stata maggiore del massimo precedente, questo è il segnale, il doppio minimo higher, che è ovviamente al contrario del doppio massimo lower, e come viene tradato? Allora intanto è un segnale dove si va a tradare esclusivamente long, per noi il segnale ce lo dà esattamente la seconda candela delle due del pattern, cioè la seconda candela è quella che ci dice long, quindi noi con questo pattern andremo esclusivamente long, non andremo in altro modo. Quindi come si va a tradare questa tipologia di pattern? Si trade in questo modo, ci sono due modalità, la modalità più classica è quella di andare a impostare un ordine stop, quindi buy stop al massimo della candela verde, la candela che dà il segnale, con stop loss sotto il minimo di quella candela, quindi la volatilità della candela in gulfing è il nostro rischio, il nostro stop loss. A volte può essere anche interessante andare a impostare un ordine stop non proprio sotto il minimo di questa candela, ma prendere il 50% di questo ingulfing, di questa candela, adesso vi faccio vedere, e andare a impostare il nostro ordine stop loss intorno al 75% della volatilità della candela, quindi per avere un rischio minore. Quindi si potrebbe entrare long sopra il massimo con stop o il più conservativo, il più classico, il più utilizzato è questo qui sotto il minimo della ingulfing, della candela che dà il segnale, oppure ovviamente ripeto al 75% del range, questo è uno dei metodi. Il secondo metodo è quello invece di andare a impostare il nostro trade al 50%, quindi con ordine buy limit questa volta si andrà a impostare, quindi andiamo a riprendere, scusate, qui vediamo a impostare un ordine buy limit in questo caso perché ovviamente il prezzo oggi chiude qui e quindi noi dobbiamo andare a impostare un ordine sotto il nostro prezzo di carico e quindi ovviamente si va a fare un buy limit, quindi a comprare sotto qui e lo stop in questo caso viene praticamente sempre inserito sotto il minimo. In questo caso ovviamente è molto interessante perché il rapporto di rischio e rendimento che ne può scaturire da questo tipo di operatività, cioè sui ritracciamenti, è sicuramente molto migliore che andare ovviamente a comprare il breakout, questo è ovvio, mi sembra chiaro che c'è poco da dire su questo, però è anche vero che è più rischioso perché nel modo in cui noi andiamo a cercare il breakout sappiamo che il mercato ha breccato e quindi bene o male c'è la possibilità che il mercato continui, se invece cerchiamo subito l'ordine limit è più rischioso perché il mercato potrebbe senza andare a rompere il massimo di questa candela andare direttamente a ribasso e poi andare a stop loss. Allora uno dei miei consigli qual è? È di aspettare la giornata seconda, cioè la sua della prima giornata, per poi vedere la seconda di entrare, quindi se la prima mi ha già breccato si potrebbe pensare anche di o di entrare direttamente a mercato qui se si voleva entrare a breakout già si entra un po' meglio, oppure aspettare il giorno dopo, vedere un po' come si comporta il giorno dopo e poi cercare di entrare, oppure classico inserire un ordine limit e aspettare solitamente, dicevo anche l'altra volta, i tre giorni dopo la candela del segnale e entrare quando ci fa entrare il mercato. Se dopo tre giorni ovviamente il mercato non va a colpire il mio prezzo di possibile entry, allora a quel punto noi non andremo a entrare nel mercato e quindi cancelleremo l'ordine della piattaforma. Come si va a gestire l'operazione? L'operazione si gestisce tranquillamente con un trailing stop o con un target. Io preferisco il trailing ultimamente, anche se in questo caso ovviamente se si va a utilizzare la strategia limit, abbiamo un rischio rendimento nella singola operazione a nostro favore molto 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 interessante. Vedete già qua, se noi fossimo entrati qui, in questo momento saremmo quasi a 1 a 2 di rischio rendimento perché ovviamente se il mio rischio è questa roba qua, vedete che se il mio rischio è, facciamo così, è questo. Adesso io sto rendendo così, cioè comunque fino a qui siamo, vedete, a un rapporto di rischio rendimento che è esattamente 1 a 2 perché il rendimento qui è due volte il mio rischio, visto che noi siamo entrati buy qui con uno stop loss lì. Vedete come diventa interessante perché già insomma arrivare a 1 a 2 ma comunque in questo caso saremo già 1 a 1 e 7 circa, 1 e 8, già è molto molto importante perché se la strategia è una strategia che paga più del 50% delle volte, avere un rapporto di rischio rendimento di 1 a 1 e 7, 1 e 8 mediamente è sicuramente vincente e quindi può già questo dirvi di uscire nel momento in cui il mercato fa la candela che magari o vi tocca o in questo caso già due giorni fa si poteva pensare di uscire e poi ma rientrare nel futuro. L'1 a 2, 1 a 7, 1 a 5 anche, è molto interessante come rapporto di rischio rendimento su strategie che hanno comunque una statistica di trade a profitto che ovviamente è a favore del profitto, altrimenti ovviamente non dobbiamo cercare delle altre strategie. In questo caso vi dico la strategia che è basata sui doppi minimi higher, doppi massimi lower, in questo caso doppio minimo higher, è sicuramente una strategia che ha una statistica molto favorevole di trade a profitto rispetto ai trade in perdita, quindi si può anche pensare di andare fuori intorno all'1 a 1 e mezzo, 1 a 1 e 8 o 1 a 2 al massimo, senza andare lì ad aspettare cose troppo difficili da raggiungere e anche un po' stressanti dal punto di vista emotivo. Bene, quindi questa potrebbe essere l'uscita, poi si può gestire anche con un trading stop, magari adesso lo vediamo in qualche prossimo esempio. Prendiamo per esempio, vediamo se l'inizio italiano qualche tempo fa, mi pareva che avesse fatto proprio un doppio minimo, cancelliamo un po' gli oggetti e se ne trovo uno fatto magari contro trend, ve lo mostro, vediamo, mi pareva di ricordarlo proprio sull'indice italiano, un doppio minimo higher, però forse sto sbagliando io, forse era il DAX, vediamo il DAX, perché il DAX è un bel indice, so che molti di voi lo vanno dato, eccolo qua, adesso me lo ricordavo. Allora, nel doppio minimo higher siamo venuti a verificare qualche giorno fa sul DAX, si poteva tradare molto bene, se notate, e lo troviamo qui. Faccio una parentesi, qualcuno di voi mi scrive come se lo trado in trend, come se ha importanza la media mobile, eccetera, allora, sì, diciamo che io amo lavorare in trend soprattutto, e utilizzo la media mobile 21 periodi, exponential, quindi la esponenziale, 21 giorni, perché utilizzo quasi solamente il grafico giornaliero per questa strategia, anche il 4 ore, visto che mi è stato chiesto, potrebbe essere un time frame molto interessante, poi andiamo a vedere se troviamo qualche esempio, così lo vediamo anche insieme, e poi andiamo a vedere se c'è qualcosa proprio nel mercato, prima che ci lasciamo, magari stasera c'è qualche buona occasione. E questo è interessante, perché appunto, ecco, la utilizzo con questa media mobile esponenziale 21 periodi di prezzo di chiusura, perché mi dà il trend, quindi se il prezzo è sopra, semplicemente la media mobile, andrò a cercare operazioni long, e se invece è sotto la media mobile, ovviamente andrò a cercare operazioni short, ma in quel caso si tratterà del doppio massimo lower close, di cui abbiamo parlato la volta scorsa nel webinar che trovate sul sito di G sui webinar on demand di Arduino Schenato. Quindi, qui avete visto che ce n'è uno molto interessante, bello perché dal punto di vista tecnico si trova anche proprio su un supporto, lo vedete qua, molto bello, boom, boom, quindi ritesta del supporto, in questo caso è un doppio minimo in trend, quindi assolutamente interessante, che cosa si viene a formare? Si viene a formare quello che abbiamo visto prima. Se andate a notare abbiamo un minimo più basso del minimo precedente, massimo più alto del massimo precedente, quindi abbiamo un engulfing come candela, eccola qua, quindi abbiamo un doppio minimo e abbiamo un cambio di colore e un higher close, cioè chiusura che è superiore alla chiusura della candela, scusate, al massimo della candela rossa. quindi molto, molto, molto chiaro il segnale. Come si può entrare? Anche qui, si può pensare di farsi un ordine breakout tranquillamente qua, con stop sotto il minimo, oppure stop al 75% della candela. Oppure, cosa molto interessante, si può cercare il ritracciamento, quindi si va a inserire un ordine pendente sul ritracciamento del 50% della candela verde, eccolo qua, quindi si sarebbe entrata l'operazione proprio qui con un buy limit, eccolo qui, quindi vedete vendi mercato, compra mercato, limite stop, quindi si imposta un ordine compra limite, come nella piattaforma. E ovviamente qua, anche qui, se si cercava l'1 a 2, l'1 a 2 si trovava veramente in maniera molto semplice proprio qui. Quindi assolutamente molto chiaro e molto semplice, si poteva tranquillamente andare a, perché avendo comprato qui, se ripeto il mio rischio è questo, per chi non ha ben capito che cosa sto dicendo, la cosa bella di questo segnale è che porta dei rischi e rendimenti molto molto elevati, eccolo qua, il buy limit qui è il mio rischio e dopo abbiamo praticamente un rendimento che è doppio, se noi andiamo a prendere profitto qui, quindi non dobbiamo per forza andare a essere avidi, è molto un problema questo di molti trader è cercare l'impossibile, alla fine quando abbiamo preso il nostro possiamo portare a casa. Ricordate che un rischio e rendimento di 1 a 2 su un'operatività che ha, ripeto, oltre il 50% di trade che vanno a profitto, come è il doppio minimo e il doppio massimo di cui stiamo parlando, ha sicuramente, anche 1 a 1 e mezzo di rischio e rendimento siete già sicuramente su un trading profittevole, quindi non serve che andate a cercare la luna, io ho conosciuto, faccio formazione da ormai veramente 6 anni, quindi oltre alla mia esperienza dove anche io questi errori li ho fatti, ci sono state tantissime persone che mi hanno insegnato a non farli ancora gli errori perché con le esperienze anche degli altri si migliora e tanta gente ho visto che è brava a fare trading ma non è capace a dire no, basta, si chiude, si porta a casa, perché il trading è anche questo, è molto emotivo e nel momento in cui non si porta a casa il risultato è lì, fermo la piattaforma, ma se no finché non lo si porta a casa non è nostro, quindi ho visto traders rischiare 200€ e essere sulla piattaforma con più di 1000€ e non chiudere, quella lì è troppa, è avidità e allora lì dobbiamo invece avere sempre un piano per cui l'operazione vada chiusa, quindi senza nessun rimorso, come io prima ero short di oro, eccolo qua e nel grafico daily ovviamente avevo avuto un segnale dei miei, tiro via tutto e ho deciso di chiudere, ero entrato short su questo livello e ho deciso di chiudere, mi sono accontentato, secondo me soprattutto per come è formato l'oro, spesso da un movimento molto forte ne deriva un ritracciamento almeno di quasi la metà, mi sembrava giusto capitalizzare una giornata molto molto intensa, posso dire anche un po' fortunata, va bene, o comunque che ha rispettato il mio piano ed è giusto che venga incassato il profitto, mi raccomando, incassare, portare a casa e qui una delle strategie migliori è quella del doppio minimo IR che ti dice di dare un obiettivo almeno massimo di 1 a 2, da 1,3 a 1,4 a 1,2, cioè 1 a 1,4 a 1,2 diventa interessante perché ripeto nel lungo periodo paga, quindi avete capito, se si voleva gestire con un trailing stop si poteva fare in questo caso tranquillamente seguire, diciamo qua si andava a comprare, seguire ogni volta sotto il minimo precedente dell'operazione, quindi anche in stop, cioè andare a comprare qui, scusate, si comprava circa qui se non ricordo male, con lo stop qui, dopo il primo giorno non si faceva niente, ovviamente dal secondo ci si spostava sotto il minimo, sotto il minimo e qua si veniva eseguiti, si può anche gestire così, in questo modo si poteva tranquillamente gestire bene. Ho una bella domanda, anzi ho varie domande, vediamo un attimo, intanto mi sembra che avete capito molto bene perché dalle domande vedo che siete molto attenti, mi fa piacere, siete oltre 110, esattamente 114 in questo momento, mi fa molto piacere, siete sempre di più e quindi mi fa molto piacere. Allora, qui mi si dice, quindi si attende un ritracciamento, invece non ho capito il secondo ingresso, non a breakout del massimo, ma sul ritracciamento a che livello? Mi chiede Domenico. Domenico mi sembra di essere stato chiaro, adesso penso che hai capito, quindi si entra sul 50% del ritracciamento del massimo e minimo della candela verde, la candela che ci dà il long. Oh, perfetto, molto bene, mi dicevi che ho compreso, penso che tutti abbiate compreso. Poi Luca mi dice con che frequenza si creano queste figure nello stesso mercato, ma nello senso mercato, sul grafico giornaliero, uno al mese probabilmente, quindi io vi consiglio, se volete lavorare con questo segnale, di avere anche altri segnali, giustamente non per niente abbiamo fatto le pinbar strategy, abbiamo fatto il doppio match, ne faremo ancora, l'inside, eccetera, ma avere quindi alcune strategie di price action e comunque fare più mercati, vedi che io ho le mie liste ed è sicuramente una cosa interessante avere, ma proprio non solo per il segnale, ma proprio perché si diversifica il mercato, quindi quando un mercato magari non paga, perché su quella strategia magari in quel momento non è un mercato direzionale, eccetera, eccetera, almeno abbiamo comunque l'altro mercato che ci paga. Mi chiede poi Eleuterio, se era valido anche quello del 28 e del 29 di non so quando, però forse si parlava di quello di prima, e prima si era sul Dow Jones, forse era questo di cui si parlava prima, quindi mi ha chiesto il 28 e il 29, quindi no, sempre DAX, mi chiedeva questo, ma questo non è un doppio minimo, perché deve essere un engulfing, la verde deve essere inglobare la candela precedente e deve avere la chiusura che è più alta del massimo della candela rossa. Poi mi si chiede, mi si chiede, andate piano perché tante domande e magari non risponderò tutte, ma comunque cerco di fare il possibile. Mi si chiede se è una tecnica applicabile solo da 4 ore in su, io dico meglio, sì, 4 ore secondo me per questo segnale è meglio, siete tutti innamorati dei grafici a 5-10 minuti, io invece sono contrario a quei tipi di grafici, per le mie strategie non vanno bene, quindi dall'H1 in su, questo qui meglio su 4 ore o il 2 ore? Il 2 ore funziona molto bene con il doppio minimo higher, quindi si potrebbe pensare più a un 2 ore se si volesse andare a fare un'operatività di questo tipo, sto prendendo un 2 ore adesso del DAO, qui ne abbiamo uno su un supporto, in questo caso che recupera la media mobile, vedete, un doppio minimo higher, in questo caso poteva essere interessante, probabilmente saremo entrati alla terza che è l'ultima candela che ci permette di entrare sul ritracciamento, come vi ho detto prima, vedete, andiamo a vedere, vediamo se è così, allora prendo il 50%, come vedete saremo entrati adesso e saremo già 1 a 2 adesso, saremo entrati alla candela delle due ore precedenti, vedete, e adesso avrebbe proprio colpito, è sul live in diretta qui, il nostro target di profitto nel giro di praticamente qualche ora, perché qui si tratta di grafici a 2 ore, e sui 2 ore e 4 ore vi consiglio di utilizzarlo, si è interessante, ripeto, sui maggiori indici e le maggiori valute, ecco, sulle azioni, su questo tipo di segnale andrei solo sul daily o il weekly, proprio sulle azioni singole, però è importante anche su quello e va molto bene, anche sul weekly delle azioni americane può funzionare molto bene come tipo di segnale, poi mi si va a chiedere un sacco di roba, va bene, allora, certe domande poi magari me le fate via mail, perché insomma c'è veramente tanta roba, cerco di rispondere a quelle un po' più generali del segnale, certo non so neanche cosa sono, cosa indichino, quindi spiegatevi un po' meglio magari se riuscite su certe domande, perché altrimenti non riesco a capire, ah, beh, Cesare mi dice una cosa che può interessare a tutti, cioè, prima ho parlato del fatto che la strategia del doppio minimo, Ayer, è una strategia che è meglio utilizzarla con dei rischi di rendimento, cioè con un target già in macchina, per esempio in questo caso dico dall'1 a 1,5 all'1,2 al massimo, perché è una strategia che paga come proprio statistica di te da profitto, in questo caso avrebbe pagato e Cesare mi dice che ha il problema contrario a altri trader dove lui esce troppo presto, come evitarlo? Eh, Cesare, non è una cosa semplice, un metodo di evitarlo è proprio quello di non guardare la piattaforma e di utilizzare i grafici giornalieri, questo è sicuramente un metodo buono, cioè di essere un po' più distaccati, lavorare un po' come se il conto reale fosse un conto demo, so che sono parole, dopo nei fatti è difficile, ma è inutile, questo è un consiglio che vi do, quindi cercare di farsi appunto non trascinare a livello emotivo della pancia dalla propria piattaforma e dalla propria operatività e operare sui grafici daily, questo secondo me può aiutare molto, perché sono grafici un po' set and forget, cioè setti l'operazione e la dimentichi e quindi una volta che tu setti il tuo ordine e poi sai che magari sui grafici a 4 ore lo guardi ogni 4 ore o sui grafici giornalieri, lo guardi dalla mattina che l'hai inserito, la sera addirittura, lo guardi alla sera dalle 7 in poi e del giorno dopo, diventa già molto più interessante e anche meno pesante e pressante ed è per questo che si può andare a prendere molti più soldini sul mercato, si lascia correre di più, si può impostare un target se la strategia ha un target e appunto come in questo caso andare a prendere profitto direttamente e automaticamente attraverso il broker che ci esegue. Per dirvi, io da quando ho iniziato a lavorare in questo modo ho migliorato i miei risultati proprio perché è normale che ci si faccia prendere un po' dalla pancia nell'andare a tradare, quindi dall'emotività, penso che sia una delle cose migliori quella di andare a operare su grafici un po' più alti e quindi non andare a essere pressanti nella propria piattaforma e cliccare costantemente. Ricordatevi che è un grande trader, uno dei miei più grandi ispiratori, un po' un maledetto del trading ma bravissimo che fu Jesse Livermore con una vita un po' strana ma a livello di trading con delle frasi semplicissime riguardanti la sua operatività nei primi del novecento, comunque nel 1930 lui fu un trader di quegli anni, ancora oggi sono sicuramente veritiere molto solide e più di molte altre. Diceva che guadagnare nel trading è facile se si riesce a rimanere seduti e fermi, sottolineo e metto proprio in caratteri cubitali fermi, quindi state fermi, datevi degli obiettivi e rispettateli, anche a livello di soldi che volete fare durante la settimana, io mi do degli obiettivi settimanali e degli obiettivi mensili, questa settimana voglio fare, facciamo finta 100, quei 100 sono il mio obiettivo e quindi cercherò di fare le mie svariate operazioni, io sono uno che opera molto, alcuni di voi sono iscritti come vedo dai nomi al mio servizio di segnali Forex Insider o Stock Insider, dei rispettivi siti hereforex.com e tradingfinanziario professionale.com e vedete tutti quante operazioni faccio, io sono un trader che su tutti i mercati su cui opero, con le mie strategie faccio almeno una quarantina di operazioni a settimana, quindi non è che opero poco, non sarò un operatore da 400 eseguiti al giorno, però non ne faccio pochi, pur lavorando su grafici daily soprattutto, quindi faccio molte operazioni ma incasso, come prima vi ho fatto vedere l'oro, io incasso, incasso perché entro fine settimana dobbiamo portare a casa il profitto, per poi chiudere la settimana in profitto e chiudere il mese in profitto, questo è fare trading, non puntate solo su un'operazione, non impuntatevi su un mercato o su un'operazione, cercate di lavorare in maniera seria per portare a casa dei soldi e portateli a casa, portateli in cassa, questo è il mio consiglio bene, poi, bene, alcune ho già risposto allora, mi si chiede se è possibile verificare dollaro contro yen, penso che sia sudjpg, non è proprio molto chiaro, mi chiede Stefano, però io cerco di capire, comunque, allora penso sia dollaro yen a cui tu ti riferisci, Stefano, andiamo a vedere, grafico daily, vediamo 4 ore tanto per capire, questo è dollaro franco però, 4 ore non ha nulla e quindi andiamo sul daily, daily siamo ben predisposto a rialzo se non ricordo male, si infatti, oh bene, vedete che insieme si riesce a trovare anche delle belle opportunità per stasera, eccolo qua questo è un doppio minimo higher, per esempio, lo vedete, tecnicamente è bello, bellissimo direi che è un bellissimo segnale perché arriva dopo un breakout, tecnicamente, di una parte di compressione abbastanza chiara, che è tutta questa compressione di volatilità si è venuto a creare, che è stata rotta nelle settimane precedenti e vedete che si è venuto a creare un bellissimo supporto qui in area 118, 118.50 che viene tenuto oggi con un doppio minimo higher close, bellissimo, grazie Stefano per questo link, quindi vedete come si viene a creare il segnale di cui stiamo parlando, quindi due colori differenti, rosso-verde, la verde che è un engulfing della rossa, quindi che ingloba totalmente la rossa con massimo e minimo e, terza cosa, che la chiusura della verde è superiore al massimo della rossa, se stasera in chiusura della candela, quindi alle ore e mezzanotte, il mercato è in questi termini, allora si può andare a fare un'operazione di trading, inserire un ordine pendente, che può essere di due tipi, o andiamo long sopra il massimo della candela verde con stop sotto il minimo, sotto il 75%, quindi qui, oppure si va a cercare un ordine di ritracciamento direttamente sul 50%, eccolo qua, della candela verde, quindi si va a inserire un buy limit proprio su questo livello, vi faccio vedere, quindi buy limit qui, qui dove c'è questa, tolgo via l'arrivo orizzontale, eccolo qua, lo compro qui, quindi metto un buy limit, se il prezzo dovesse andare su questi livelli, il mercato mi comprerà, stop sotto i minimi e verrà inserito un ordine di take profit all'1-2 al massimo, o se volete essere ancora più tranquilli a 1-1,5, 1-2 potete inserirlo, poi al massimo vi spostate con un trailing nel caso in cui il mercato non fa quello che deve fare, così non vi date un obiettivo migliore, diciamo, ma non troppo, così da riuscire a portare a casa il risultato. Questo è un doppio minimo IR, ci sono domande su questo ancora, sulla mia qui, sulla cosa delle domande, però penso che sempre di più abbiate abbastanza chiaro questo tipo di segnale. Allora, siccome avete tante domande, io me lo metto sempre, metto sempre questo, info-hereforex.com, www.irforex.com, www.tradingfinanziarioprofessionale.com, sono i due siti a cui fare riferimento per quanto riguarda le tecniche del sottoscritto, quindi se avete domande che non riesco adesso rispondere, o perché magari non sono proprio totalmente rivolte a questo segnale e quindi è giusto dare più spazio a questo segnale oggi, basta che mi iscriviate qui e trovate tutto. Allora, intanto continuiamo a rispondere a alcune domande, mi si chiede se ha importanza o non ha importanza la grandezza della candela inglobata, direi di no, cioè se risponde alle caratteristiche di cui ho parlato fino adesso, quindi rosso-verde, la verde che ha massimo e minimo, che ingloba il massimo e il minimo della precedente e la chiusura della verde che è superiore del massimo della candela rossa, a quel punto siamo di fronte a un doppio minimo AER, quindi non fatevi troppe domande sul segnale, questo è e questo rimane, a volte è anche il farsi troppe domande, anche troppe paure, troppe richieste a se stessi riguardante una strategia, diventa anche poco remunerativo, diventa anche forse un po' confusionario nel proprio trading e anche che dà poco sicurezza a livello psicologico e sapete che la sicurezza è una delle cose principali nel trading, quindi non ha senso, poi ci sono un po' di cose che vedo, Riccardo mi dice proprio ora ho fatto un errore di uscire presto mentre ti seguo, chiudi la piattaforma e riguarda stasera, a meno che non sia un trading fatto sul grafico a 5 minuti, allora ti dico stai pure lì davanti, seguilo, ma altrimenti lasciamo il mercato correre, insomma io i trading dove ho guadagnato di più sono quelli che ho lasciato correre sui grafici giornalieri e poi a fine giornata ho deciso che li da farsi, può essere anche una sola giornata che paga molto, come ho visto per loro oggi e ho chiuso, penso sia giusto, porterei a caso il profitto quando il profitto c'è. Ecco ho ripetuto ovviamente le tre condizioni che mi chiedeva Luciano, poi... va bene, guardiamo l'ultimo sull'Ibex, poi ho svariate altre domande però direi che altrimenti andiamo veramente lunghi, mi si chiede sull'indice Ibex35, l'indice spagnolo, che è tra l'altro l'indice che io faccio, eccolo qua, che cosa mi si chiedeva? Mi si chiedeva se probabilmente c'era un doppio minimo? No, non c'è, il doppio minimo qui non c'è, quindi... no, questo non è un doppio minimo, bellissimo a livello tecnico, sicuramente può essere un altro segnale di trading ma non è un doppio minimo higher, è sicuramente interessante, vedete anche qui la compressione di volatilità che si è andata a rompere la settimana scorsa, ieri il mercato ha ritracciato, adesso ha ripreso, un po' come ci si aspettava, vi dico la verità, quello che è successo alla fine era un po' quello interessante, anche questo, però non è un doppio minimo higher, ecco volevo dirvelo, che ovviamente questo non è, mi chiedono, mi dicono anche l'euro yen, qui andiamo a vedere, allora, euro yen, euro, euro yen, euro yen, certo, l'euro yen è proprio sul filo, nel senso che adesso parte sopra la media mobile, quindi può essere utilizzato come operazione long, sicuramente, sì sì, ovviamente se devo scegliere tra l'euro yen e il dollar yen, preferisco il dollar yen, perché è in un trend molto più definito e quindi, visto che sono due comunque mercati abbastanza correlati, abbastanza sottolineo correlati, ovviamente perché si va a vendere o acquistare yen, in questo caso a venderli, sicuramente preferirei i dollari yen, però questo non si può non dire che è un possibile doppio minimo higher con prezzo di chiusura sopra la media mobile e soprattutto con falsa rottura dei minimi a 135, 134, quindi anche a livello di price action, proprio a livello generale, quindi cosa i mercati, che dinamiche di prezzo i mercati hanno fatto in questo caso, il mercato di riferimento ha fatto in questo caso è sicuramente interessante, proprio perché va a fare falsi breakout dei minimi precedenti, cosa molto molto importante è per la price action tradizionale, quindi non guardiamo solo il segnale in sé, ma vediamo il contesto del segnale in sé, se siamo sopra un supporto, se il prezzo ha breccato la media mobile, che tipo di forza ha avuto quella candela, sono tutte piccole domande grandi che bisogna farsi, che possono essere sicuramente di approfondimento al proprio trading e quindi al miglioramento del proprio trading, in questo caso è sicuramente un'ottima, anche questa è un'ottima possibile strategia, andiamo a vedere se a volte uno, io a volte magari se ho dei dubbi anche di capire il mercato, vado a vedere anche come siamo messi sul grafico settimanale, quando vedo che per esempio vedete il grafico settimanale sta recuperando dei supporti precedenti, non facendo diventare questa una resistenza, ma rompendoli al rialzo, questo poi potrebbe ritornare un supporto, quindi la cosa bella è che c'è il livello dove si è formato questo di più minimo, è sicuramente un livello di price action molto interessante, assolutamente da tenere in considerazione neanche il segnale di Euro-Yen se dovesse chiudere su questo livello. Ovvio che se devo andare, ripeto, a prendere i due, a livello tecnico il Dollar-Yen è messo molto meglio, ovviamente oggi l'Euro in generale, non dico contro lo Yen, è una delle coppie più deboli del mercato e quindi se devo comprarle in maniera un po' più strutturata, un po' più, come dire, di medio periodo vado più sul Dollar-Yen, se devo andare a fare un trade di un giorno, un paio di giorni, due o tre giorni, posso andare tranquillamente anche sull'Euro-Yen, perché qui magari possiamo vedere anche un rialzo che può avere anche i suoi massimi nei livelli precedenti, cioè questa area qua dei 140, 140, 150 assolutamente può essere possibile, quindi si può fare anche un bel trade, da 1 a 2 sicuramente, come rischio rendimento. Bene, direi che allora, ripetiamo, per tutte le vostre richieste c'è la mail di cui vi ho fatto vedere prima, tra un po' questo webinar andrà sul sito, quindi è anche, non solo sul sito, ma anche, vi faccio vedere, sulla app, io mi sono scaricato la nuova app di IG, che è la IGTV, dove trovate un sacco di cose interessanti, ma proprio veramente molto, molto, molto interessanti, e quindi, insomma, potete vederle anche direttamente da un iPad, per dire, e la cosa è sicuramente molto, molto, molto valida. Trovate tutti i miei webinar, quindi, ripeto, se siete anche, non so, sul divano di sera e volete andare a vedervi un po' di cose, potete andare. Poi, altra cosa, volevo farvi vedere velocemente, visto che non lo faccio mai vedere, i miei due siti, visto che me l'avete chiesto, quali sono i miei siti, uno me l'ha scritto giusto, allora, tradingfinanziarioprofessionale.com, trovate svariate cose, tra cui segnali, stock insider dedicati esclusivamente al mercato degli indici, al mercato delle azioni, col CFD attraverso appunto il broker IG, e yearforex.com, anche qui ho svariate cose di formazione, tra cui la formazione gratis, dove appunto c'è anche tutta la parte di IG, che vi manda al sito di IG, che vi ho già spiegato prima, e anche i segnali, FX Insider, che sono i segnali sul Forex, sulle materie prime, con i CFD sempre attraverso IG, che è il mio broker. E quindi, potete anche andare a vedere un po' di cose, sia a livello gratuito che a pagamento, quindi di formazione seria e professionale. Dopodiché, altre cose da dire, avete tantissime domande, vi ho già fatto vedere la parte dell'email dove andare a richiedere, magari quelle più importanti ho risposto, diciamo più importanti, non tanto, sono tutte importanti, ma più che altro, più generali. Quindi altre cose non ci sono da dire, se avete altri dubbi, o se avete degli argomenti di price action, o comunque riguardanti le mie tecniche, che vorreste fossero trattati in questi webinar, scrivetemelo, volentieri. Si passa tre quarti d'ora insieme e si parla appunto di, o anche di più, e si parla appunto di questi segnali o delle cose proprio di cui volete parlare, magari che io posso approfondire perché magari le ho già vissute, o comunque le so, le conosco, eccetera, eccetera. Bene, io spero che vi sia piaciuto, che vi sia servito, che vi servirà in futuro, se avete dubbi contattatemi e seguitemi su tutti i social, e ovviamente vedo che alcuni mi scrivevano che hanno un'altra piattaforma, se avete un'altra piattaforma non dovete fare altro che aprire un conto con IG e utilizzare però real time per i grafici perché non ha proprio paragoni rispetto ad altro, ve lo dice un trader che ha fatto trading da svariati anni e ha provato svariate piattaforme. Quindi vi saluto, vi auguro un buon trading simple a tutti voi, Arduino Schenato insieme ad IG vi da appunto il saluto. Grazie a tutti. Grazie.